E va bene, quindi, possiamo andare a seguire il sesto coro, che è il coro... Eccomi! Ma questo è un pazzone che fa la desidera un po' a partire! Ma lei che direi? Ah, sono pieno, non amazzotti! Ma no, ma è pare di chiedo, sono pieno, sono amazzotti! No, di più, di più! E' la rete del famoso inventore della mamma, non amazzotti! No, di più! Ma allora è pare di fondatore del film, è Angelo Armantotti! Ma no, io parlo è il grande Ugo! Ugo? E chi è? Ugo amazzotti, panettine e produttore di panzerotti! Ma merda, questo è un processo che ha, ma dov'è il suo coro? Sì! Ma c'è il suo? Cos'è quello? Io intendevo un coro interso, un coro che servisce tutti insieme, ma presente? Hai un'isola, una cosa di... strana! Un coro interno! Sì, provare, facciamo una cosa, ti consiglio, visto che c'è qua un pubblico che lo vedo veramente molto artiste, si fanno un po' aiutare da loro, visto che non hai il coro? Mi raccomando che lo facciamo tutto sicuro, una merda! Per favore, dai che dal momento è abbastanza indarazzante, dati una mano! Questa parte... Aaaaaa... C'entrata più... Luuu... Giaaaaaa... Proviamo! Un, due, tre! Aaaaaa... 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 E' il balon di vivo! Mi sono andata a tutti i miei film, ma si va però notti i miei! Si è andata con i caloni! Io non d'hanno già fatto questo, ma quando è in loro cammini, eh? Eh, è calore, inizio fatto di voi.